Musica Ciao ragazzi, allora scusatemi tantissimo per l'assenza perché sono stata più o meno 10-12 giorni senza caricare video e non so perché ma è un periodo che sono veramente a pezzi, sono stanchissima, cioè proprio non ho voglia di fare niente quindi figuriamoci di fare video, cioè proprio non lo so eppure ho comprato un sacco di cose con i saldi, cioè varie cosine, ho speso veramente poco però ho comprato tante cose e quindi avrei avuto la possibilità di fare video haul, di fare video outfit nuovi eppure veramente non lo so, cioè non so se vedete la mia faccia, sono proprio a pezzi poi sono andata alle terme, non è discorso, è stata un'esperienza davvero traumatica perché tutti che dicono ah meraviglioso, meraviglioso però sono andata a pressa di die e praticamente è tutto fuori cioè con la neve, meno 10, in costume, ho patito un freddo ragazzi e più o meno sono 5 giorni che sono bloccata con la schiena, male alla cervicale, male alle ossa l'altro giorno addirittura non riuscivo a camminare con i giochi a pezzi quindi figuriamoci, fanno benissimo le terme proprio ve le consiglio a me hanno distrutto comunque niente, oggi sono qui con un video outfit finalmente perché ho comprato due o tre cose nuove carine volevo farvele vedere mi piaceva l'abbinamento un outfit sportivo proprio sportivissimo però abbastanza ricercato anche sapete che a me piacciono questi abbinamenti sportivo chic spero che tanto che piaccia anche voi e posso farvi vedere i dettagli allora nella parte di sopra ho questa felpa mi piace tantissimo era un po' che cercavo una felpa fatta così cioè di quelle non con la zip ma con i tasconi davanti un po' oversize morbida col cappuccio e in realtà non ne avevo ancora trovata una che mi entusiasmasse poi l'altro giorno sono andata a trovare il mio ragazzo che lavora da Cisalfa a Grugliasco comunque Cisalfa è una catena che c'è un po' in tutta Italia e appunto come sempre quando uno magari ha la possibilità di vedere le cose sotto occhio tutti i giorni non ci fa caso perché io vado sempre a trovarlo però magari non è che guardo e faccio il giro del negozio tutte le volte invece l'altro giorno siccome c'erano i saldi ho fatto un po' un giro e ho trovato questa e mi piaceva tantissimo l'ho pagata 39 euro invece di 79 quindi un mega saldo è carinissimo perché ha il logo di Converse appunto con tutti i glitter guardate che bellina e poi l'altra particolarità è questa chiusura del cappuccio che ha gli alamari con i bottoncini quindi non si chiamano alamari boh non so come si chiamano comunque ha i tre bottoncini così che quindi permettono di tenerlo sia chiuso tipo colletto alto però in realtà è un cappuccio queste come vi dicevo abbastanza morbide vabbè che ho preso una L perché a me piace oversize e ha i tasconi così sopra per uscire visto che oggi fa caldo e quindi c'è tanta voglia di primavera ho deciso di mettere il pellicciotto che spezza diciamo rende un po' più interessante lo sportivo della felpa e niente quindi un po' più casual un po' più particolare se riuscissi anche a chiuderlo il pellicciotto l'ho preso da ProMod e l'ho pagato 29 euro quei saldi ma ve l'ho già fatto vedere nel mio ultimo video haul niente non riesco a chiuderlo come mai vabbè vabbè quando uno cerca di fare le cose di corsa non ci riesce mai l'ho aperto che serve lo stesso quindi questo è il pellicciotto bianco che ho preso da ProMod per chi mi segue appunto l'ho fatto vedere nel mio ultimo video haul e come borsa ci abbino la Matilda di Lujo che è questa qua che mi ha arrivato come sorella nello scorso per il mio compleanno e la porto a tracolla diciamo che è un bel rosa cipria che col grigio si abbina bene passiamo alla parte di sotto allora sotto ho messo questo leggings in simile pelle l'ho preso da Tallywell pagando lo sui 10 euro quest'anno si usa tantissimo il pantalone in pelle mi piace l'avevo già preso l'anno scorso in realtà quindi lo messo poco perché si usava meno e quest'anno invece la sto sfruttando veramente tanto e poi abbino tutto con queste nuove scarpe che sono bellissime le adoro me ne sono innamorata le ho comprate in saldo sabato scorso le ho prese da Eleven Store e sono una marca che non conoscevo si chiama Kalt le ho pagate 64 euro invece che 140 sono sneakers appunto con la zeppa interna sapete che io sono malata ho già le ash sono innamorata di questo tipo di sneakers la cosa particolare è che rispetto alle ash che hanno comunque la parte della zeppa rientrante queste sono dritte ricordano molto le Isabelle Maran che sono appunto quelle originali diciamo tra virgolette non che sono originali però sono le prime che sono uscite di questo genere qua infatti hanno i tre strappi però in più hanno questa particolarità delle borchiette in argento una scarpa veramente comoda comoda che mi piace me ne sono già innamorata veramente le sto mettendo tantissimo la settimana che ce l'ho le ho messo tutti i giorni belle belle mi piacciono un bel grigio scamosciato un colore primaverile secondo me va bene appunto le porterò tanto sono contenta di averle trovate in saldo come accessori non metto niente nelle braccia nelle mani perché comunque se non un outfit sportivo anche al collo non voglio esagerare cioè voglio lasciarlo abbastanza easy ho messo solo questo orecchino questo è della Braille me l'aveva regalato mia mamma ed è un orecchino a cerchio con il loghino della Braille sotto è carino anche è una collana abbinata me l'aveva regalata mamma tipo due anni fa comunque c'è già un po' di anni e niente spero tanto che l'outfit vi piaccia volevo ringraziare tantissimo che non ho ancora avuto modo di farlo una ragazza che è Caterina ti saluto un bacione e questa ragazza ha creato la grafica del banner del mio canale su youtube se non l'avete ancora vista vi consiglio di andare a vedere ha fatto un ritratto sia di Isabel la mia pagnolina che non è mio proprio il ritratto c'è il ritratto di una ragazza comunque ha creato lei questo banner è stata molto molto gentile ha un suo sito che si chiama www.perrydesign.it comunque lei si chiama Katie Perry su facebook vi lascio comunque tutti i link per sicurezza qua sotto nell'info box se avete bisogno di lavori di grafica per canale youtube e non potete contattarla è stata veramente molto molto gentile simpatica e disponibile quindi la ringrazio la ringrazio pubblicamente e la saluto tanto un bacione a tutti voi e al prossimo video ciao